Voga 2016, weekend di relax, collina, montagna, bosco. Nel mio caso sicuramente bosco, sin da quando ero piccolissimo i miei mi portavano a passeggiare nei più bei boschi della regione Trentino, adesso sono innamorato un po' di tutti i boschi, quando ritorniamo in Trentino ho sempre il piacere di tornare a passeggiare per quei boschi, magari di prendere un panino e ci facciamo un bel picnic. È una cosa che trovo particolarmente rilassante, questa full immersion nella natura. E quindi anche crescendo continuo ad apprezzare sempre di più questo tipo di passeggiate. E anche quando ero più piccolo, soprattutto, anche qui in Sicilia spesso facevamo delle scampagnate nelle pinette circostanti, è sempre stata una cosa molto bella e molto piacevole. Quindi sì, decisamente io sono tipo da bosco. E tu, invece, qual è la tua idea di weekend rilassante, a scelta tra collina, montagna o bosco? Oppure hai qualche idea interessante per un relax particolare nel weekend? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga2016, noi ci vediamo domani. Ciao!